Sono Massimo Caccia dell'Istituto di Ingegneria del Mare e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oggi spero in qualche modo di trasmettere a questi ragazzi cosa significa svolgere il mestiere di ricercatore, quali sono le caratteristiche che bisogna avere, quali aspetti di approccio non bisogna mai dimenticare, abbandonare facendo questo mestiere e anche e soprattutto per cercare di iniziare a capire insieme a loro se e come dobbiamo ripensare questa attività, la produzione e la trasmissione del sapere in un mondo dove i mezzi che abbiamo a disposizione sono completamente diversi ed impensabili fino ad una ventina di anni fa.